Dopo aver giocato come calciatore nelle giovanili dell'Inter, nella Rona, nella Trevigliese e nel Fanfulla, registrato come Ernesto, Scott iniziò la sua carriera come attore di teatro, calcando le assi di palcoscenici sui quali venivano prodotti spettacoli di varietà e di teatro di rivista, dotato di una memoria eccezionale e di una fantastica capacità oratoria. Si contraddistinse per la velocità e la precisione delle sue parlate, sempre convulse e frenetiche, ma mai incomprensibili. Per questo motivo, venne benevolmente soprannominato Tino Scatti, frequenti le partecipazioni a programmi radiofonici di varietà e di prosa, dalla fine degli anni trenta, presso gli studi dell'Eia Rerai, tra cui il varietà settimanale rossa e nero. Da buon caratterista inventò due personaggi destinati a segnarne il successo, il cavaliere con il famoso motto, Gepensimi, ed il Bauscia, emblemi di una milanesità agli antipodi. Se il secondo era uno sbruffone, il primo impersonava il ruolo del gigolò assennato. Entrambi erano però lo specchio della personalità dell'attore. Di gran classe e mai volgare. Nel 1952 commentò con la sua voce le comiche riunite nel film, Ridolini e la collana della suocera. Con Larry Simon, molto noti i suoi caroselli del confetto Falqui. Prodotto farmaceutico da banco, come si direbbe oggi, famoso il motto pubblicitario ad esso riferito. Falqui, basta la parola, virgolette, ebbe anche successo come attore di prosa. Affrontando autori come Shakespeare, Pene d'amor perdute, e Goldoni, Le Baruffe Chiozzotte, sotto la regia di grandi nomi come Giorgio Strelere e Franco Enriches, partecipò anche a varie pellicole cinematografiche. Soprattutto di genere comico, ed in televisione fu spesso protagonista di trasmissioni di varietà. Come bambole, non c'è una lira, diretta da Antonello Falqui nel 1977. La sua ultima apparizione avvenne nello sceneggiato televisivo. È la vita continua. 1984. Muore la mattina del 16 ottobre 1984. All'ospedale di Tarquinia in provincia di Viterbo. Soffriva da qualche tempo di disturbi cardiocircolatori che si erano aggravati negli ultimi giorni di vita, ad assisterlo la moglie Tiziana, che gli era rimasta vicina per tutta la vita, fin dagli incerti inizi nella rivista Milano. All'ospedale di Tarquinia in provincia di Viterbo. очень be Juliana Cools bearera di Tarquinia in provincia di Frida in provincia di Viterbo. Passnamed Tiziana di Marco inforso girare in provincia. Perchama, che richelare la via проблема di Tarquinia in provincia di Viterbo. L'ospedale di Tarquinia in provincia di Viterbo. Grazie a tutti.